Adesso hai la possibilità, perché il Procuratore Gratteri probabilmente lo seguirà dopo o lo vedrà dopo, se devi fare un appello e parlare, è come se tu l'avessi davanti, il Procuratore Gratteri, guarda la telecamera 1 e di quello che pensi. Ma penso, innanzitutto io non porto l'ancore, non sono uno che... Cosa è successo con quella inchiesta? Io penso, e le sentenze lo hanno confermato, purtroppo devo dire, penso che in Gratteri è prevalsa un egocentrismo, la mania di protagonismo, utilizzare una personalità, che naturalmente in quel momento ero io, ma poteva essere un altro, ma ero io in quel momento il Presidente della Regione, per fare cassa mediatica, per amplificare appunto una operazione giudiziaria che era non fondata, per come poi ha detto la Cassazione, per come ha detto il giudice, la magistratura giudicante, io non sono qui a difendermi appunto a priori, perché ognuno si difende a priori, io parlo sulla base delle sentenze, e le sentenze ci sono state, e le sentenze hanno, dopo anni purtroppo, evidenziato che si trattava di fuffa, una fuffa costruita, perché c'è stata una prima fuffa, una seconda fuffa, una terza fuffa, non è che io praticamente sono stato oggetto di un solo provvedimento grave, perché limitare l'esercizio della funzione istituzionale, che è derivante dall'investitura popolare, da un voto che c'era stato nel 2014, limitarla è un fatto di lesione anche costituzionale, perché io sono stato trattato come un comune delinquente, anzi, poi devo dire che in tutta questa catena, perché c'è una catena che è stata messa in campo, c'è la catena della mala giustizia, e poi c'è la catena della mala informazione, perché la mattina io mi trovo, mentre la Guardia di Finanza mi notificava quel provvedimento per abuso d'ufficio, guarda, io ero stato oggetto di un obbligo di dimora, quindi limitato nella mia funzione di Presidente della Regione, per un abuso d'ufficio, che tra l'altro non era fondato, per come hanno detto poi le sentenze, mentre la Guardia di Finanza mi notificava quel provvedimento, un giornale online pubblicava il governatore della Calabria, Oliverio, agli arresti domiciliari con l'aggravante del metodo mafioso, qui c'è la catena, c'è una catena, appunto, perché chi aveva dato quella notizia a quel giornale, se la Guardia di Finanza era da me alle sette e mezzo del mattino a notificarmi, a notificarmi... Cioè vuol dire che è uscita questa velina... Certo, certo, è uscita questa velina, che poi a sua volta è stata ripresa dalla catena del sistema mediatico... Era Corriere della Sera o Repubblica? No, era la Gazzetta del Sud... A firma di Badolato... A firma di Badolato, certo... A Badolato ci sta guardando, poi eventualmente... Sta guardando, io sto dicendo la verità, non sto dicendo nulla di... No, Badolato in quel momento quindi ha questa notizia, come fa ad averla tu dici? A questo come fa ad averla bisogna chiederlo a Badolato... E va bene, glielo puoi chiedere... E bisogna chiedere anche al Procuratore che appunto aveva sottoscritto quel provvedimento, come è uscita quella notizia... Cioè tu vuoi dire come Badolato, eccola qua, eccola qua, abuso di ufficio, obbligo di dimora... No, non abuso di ufficio, abuso di ufficio è stata la correzione che è stata fatta dopo... Che è fatta dopo, la notizia di Arcangelo era prima... Agli arresti domiciliari con l'aggravante del metodo mafioso, cosa che io conservo perché... Ce l'hai, ce l'hai... Per tutt'alarmi ho fatto... Un attimo che la gira la segretaria qui che è, alla regia, la gira subito... Non è... Sì, me la giri perché voglio vedere questa firma della Gazzetta del Sud di Arcangelo... Ma poi Arcangelo l'hai visto poi successivamente? No, non ho avuto modo di vedere... Ma se dovessi chiedere... La domanda che fai diretta da Arcangelo Badolato... Chi ti ha dato quella notizia? Domanda, eccola qua... Chi ti ha dato quella notizia? Perché la notizia è stata pubblicata a firma poi tra l'altro... Cioè, ti notificano e a firma arriva l'articolo della Gazzetta... Sì, sì, alle 7 e mezzo, alle 8 del mattino... 8 del mattino, la finanza... La finanza era lì che mi stava notificando, non c'entra niente... E già, il giornale online... Non c'entra niente alla finanza, perché la finanza mi stava notificando, gli agenti della Guardia di Finanza mi stavano notificando quell'atto, quindi... Cioè, c'è un sistema malato... Cioè, è malata la società, è malata la politica, ma non è una verginella la giustizia... La giustizia è praticamente malata... Per fortuna poi c'è una parte della giustizia, perché naturalmente non ha fastello, non ha fastello tutto e tutto... Per fortuna c'è la Cassazione, per fortuna ci sono magistrati che conservano la serietà, la sobrietà... Perché un magistrato non è una subrette televisiva... Un magistrato è una persona che ha sulle spalle la responsabilità di giudicare, di indagare, di giudicare... E deve farlo con il massimo di scrupolosità e di riservatezza... Purtroppo non è così, perché ormai siamo negli show televisivi... Da parte di alcuni magistrati, e Gratteri è un protagonista da questo punto di vista... E appunto si è scelta la strada degli show televisivi... Il magistrato non deve fare la showman televisiva, perché è un'altra cosa... Deve scegliere di farla su Brett, o deve scegliere di fare politico, o deve scegliere di fare l'attore... E' un'altra cosa, è uno scrittore, è scrittore però, è scrittore con una responsabilità istituzionale... Cioè tu dici che è sovraesposto il procuratore Gratteri televisivamente... Poi ve lo dico io, tutti i giorni in televisione Gratteri... E ne su questo io faccio osservazioni... Io dico praticamente però che c'è un uso della proiezione mediatica, dell'amplificazione mediatica... E anche delle fake news mediatiche... Che appunto non fa bene alla credibilità della magistratura... Non fa bene alla serietà della magistratura... Perché la magistratura è un potere importante, è un ordine meglio, importante... Che è stato storicamente caratterizzato da sobrietà... Da terzietà... Da terzietà... Quando si perdono questi caratteri... E' chiaro che diventa... Un'altra cosa diventa... E naturalmente poi c'è la rincorsa a chi la dice più grossa... A chi la fa più grossa... A chi utilizza vicende e anche a chi utilizza personaggi per amplificare la propria immagine... Ma stai dicendo che Gratteri probabilmente ha utilizzato il tuo nome nel contesto di un'inchiesta... E l'ha fatto per promuoversi... Ma non voglio crederci a una cosa di questa... Scusami Mario... Io parlo di cose oggettive... Non dico questo... Io parlo di cose oggettive... Cioè una domanda te la poni... Scusami... Bado Lato è ad avere... Posso dirti una cosa... Se io mi trovo con... La Presidente della Regione... Con un provvedimento abnorme... Questo l'ha detto la Cassazione... Questo è un termine che ha utilizzato la Cassazione... Abnorme quel provvedimento... E poi mi trovo schiaffato lo stesso giorno... Su tutti i TG nazionali... E anche internazionali... Perché io sono stato contattato poi anche dall'Australia... Dall'America... Dai calabresi che sono nel mondo... Perché la rete ormai è una rete che ha dimensione globale... E poi mi trovo dopo tre mesi appunto... Giudicato dalla Cassazione... Per essere oggetto di un chiaro pregiudizio accusatorio... E poi mi trovo assolto perché il fatto non sussiste... Perché il fatto non sussiste... Non sono io a dirlo... Sono le sentenze a dire... Che c'è stato un uso spregiudicato... Io aggiungo... E non è solo il caso mio... Perché se fosse il caso mio... Io potrei anche pensare che... Si tratta di un errore giudiziario... Ci può essere... Ci può stare l'errore giudiziario... Si è creato un clima di paura... Noi abbiamo avuto in questi anni... Un clima di paura... Una stagione... Bisogna dirlo perché... Bravo... Questo è una cosa che... Giro per le strade... Sui bar... Tutti le parlano... Poi nessuno... Il coraggio... Dà voce a queste cose... E io... E io ho il dovere morale di dare voce a queste... Articolo 21... A queste cose... Si è creato un clima di paura... Ma è un territorio nel quale... Prevale la paura... Si vive nella paura... Per la giustizia... Perché questa... La giustizia non deve far paura... Questa non è giustizia... La giustizia non deve far paura... La giustizia deve... Non può far paura... La giustizia fa paura quando... Colpisce... In modo... Come dire... Affastellando tutti e tutti... Colpisce nel mucchio... E colpisce... Tanti innocenti...